Siamo arrivati a Falconara, il castello sulla destra, abbiamo passato tanti momenti del territorio siciliano, stiamo tutti bene, io sto viaggiando con i tifosi del Noto ed è piacevole, divertente, noi di Gol Sicilia di Tarmus cureremo questo speciale, saremo in streaming audio-video durante l'Icatanoto in diretta, loro hanno detto che non vogliono parlare, me lo fate l'urno Forzanoto? Do, do! Perfetto